Benvenuti nel mondo degli orologi Lebo Curalli. Lebo Curalli è un marchio di orologi di lusso belga fondato nel 1865 agli EG. Il nome dell'azienda deriva da Auguste Lebo e da Curalli, due famosi produttori di armi belgi del XIX secolo. Grazie alla loro esperienza nella lavorazione di materiali pregiati, Lebo Curalli ha potuto creare orologi di altissima qualità, realizzati a mano dai maestri artigiani dell'azienda. La filosofia di Lebo Curalli è quella di creare orologi di lusso che siano al tempo stesso belli e funzionali. Ogni orologio è fatto a mano da artigiani altamente qualificati, che lavorano con cura e precisione per creare pezzi unici e senza tempo. I modelli di Lebo Curalli presentano un design elegante e sobrio, ispirato alla tradizione belga dell'artigianato e dell'ingegneria. Tra i modelli più famosi di Lebo Curalli si annoverano Lecomte e Lefas di Luna. Ogni modello è caratterizzato da un design unico e raffinato, che riflette l'attenzione ai dettagli e la passione per la qualità artigianale dell'azienda. Lecomte è un orologio da polso dotato di turbione con un sistema brevettato, cledifusy, per aprire la cover posteriore. Lefas di Luna è dotato di una complicazione di fase di Luna e di un movimento meccanico a carica automatica. In sintesi, Lebo Curalli è un marchio di orologi di lusso che si distingue per la sua attenzione ai dettagli, alla qualità artigianale e alla bellezza senza tempo dei suoi orologi ispirati alle armi prodotte dalla Maison in passato. Grazie alla sua filosofia di creare orologi di altissima qualità, realizzati a mano con materiali pregiati e con tecniche di produzione avanzate, l'azienda ha guadagnato un seguito di appassionati di orologi di lusso.